Prende ora la parola Enzo Palumbo. Cari amici, questa notte ho fatto un sogno e appena svegliatomi ho preso qualche appunto perché dimenticavo di dire, dimenticavo quello che avevo sognato e ho immaginato, ho sognato di trovarmi in una sala come questa con tanta bella gente come voi che ha deciso di fare politica, di fare politica insieme a noi, tutti insieme e di dire alcune cose che penso da tempo e che questa occasione mi consente di dire e cominciavo col dire che io voglio essere europeo e poi però aggiungevo ma se voglio essere europeo e se voglio vivere in una nazione europea, io devo prima di tutto, per prima cosa, fare un'offerta politica europea. Invece in Italia che abbiamo fatto? Era quello che dicevo. Abbiamo scomodato la zoologia e abbiamo inventato l'asinello, poi abbiamo inventato, utilizzato la botanica e abbiamo inventato l'olivo, la quercia, la margherita, la rosa e poi alla fine abbiamo inventato anche il partito non partito, quasi, quasi parafrasando la neolingua di Orwell. Le conseguenze le vediamo sotto gli occhi di tutti, l'indifferenza degli eletti, la disaffezione degli elettori, la corruzione generalizzata, l'utilizzo delle risorse pubbliche per scopi privati quando nella prima Repubblica si usavano, almeno con tutte le conseguenze che ci sono state risorse private per scopi pubblici. E allora una nuova offerta politica che preveda la neutralità dello Stato, la spontaneità dell'economia, l'imparzialità, la responsabilità, la meritocrazia nella pubblica amministrazione, la rappresentatività delle istituzioni e quindi quello che si diceva e che dicevano anche altre, riconciliare i cittadini con le istituzioni. E veniamo a noi. Il liberalismo, mai parola più abusata nel nostro Paese. E allora forse è il momento di colmare questo vuoto, di rimetterci in marcia come farà domani la Francia, di riunire questa diaspora liberale, repubblicana, radicale, per ricongiungersi tutti nel Partito Europeo dei Liberali. E quindi grazie a chi ha consentito, ha permesso questa riunione, a Enrico Zanetti che ci ha preannunziato anche lo scioglimento del suo partito per concorrere a questo grande progetto, a Flavio Tosi che tanto si è speso per questa occasione, a Giuseppe Benedetto e a Davide Giacalone che hanno messo la fucina culturale della Fondazione Naudi a disposizione di questo progetto. Ma questa non è la conclusione del nostro percorso, è appena l'inizio del nostro percorso. Perché dobbiamo ricordare quelli che non ci sono, che non ci sono più, come io voglio ricordare a Valerio Zanone Renato Altissimo, che sono stati i leader liberali dell'altro secolo ma che avrebbero potuto esserlo anche in questo. E voglio ricordare tutte le istituzioni culturali che hanno tenuto alta la bandiera del liberalesimo in questo Paese, a cominciare da critica liberale e da libro aperto. Qual è il nostro dovere? Il nostro dovere è quello di riunirli, di riunirli tutti, anche gli amici del Partito Liberale che in questi giorni stanno celebrando il loro congresso. E a nessuno di costoro, a di questi amici dovremmo chiedere da dove vengono, ma dobbiamo chiedergli verso dove vogliono andare e verso cosa vogliono fare. E le risposte negative non ci scoraggeranno. Grazie. 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 Grazie.